Ciao ragazzi sono Crax, ben tornati nel canale e siamo tornati finalmente su Clash of Clans e quello di oggi che cos'è lo voglio sentire da voi, forza. Bravi, bravi, un video molto molto speciale perché circa qualche oretta fa è uscito sul blog ufficiale della Supercell il bilanciamento che introdurranno con il prossimo aggiornamento. Ragazzuoli, stravolgeranno completamente il gioco, secondo me è il miglior bilanciamento di sempre. Se lo volete leggere personalmente vi lascio il link qui sotto in descrizione ma state tranquilli perché nella prima parte di questo episodio lo analizzeremo insieme, vi dirò tutte le mie impressioni a caldo perché ce l'ho esattamente qui sul telefono tutto tradotto. Di cosa si tratta? È un bilanciamento che dopo anni finalmente va a potenziare l'attacco piuttosto che la difesa, sono stati potenziati diversi livelli di diverse truppe e sono state ne fate alcune difese secondo me inaspettate. Mi raccomando ragazzuoli, non vi dimenticate il like di supporto, è fondamentale, 7000 per un prossimo episodio e attivate la campanellina, scampanellate perché sta per uscire l'aggiornamento, arriveranno tantissimi episodi speciali. Grazie a tutti per il supporto ma dicevamo gli upgrade sulle truppe, cominciamo dal golem, sono stati potenziati esattamente il livello 1, 2 e 3, cosa alquanto ottima per i DH9, più potenza offensiva perché i golem aumentano leggermente i propri HP. Ripeto, livello 1, 2 e 3, poi magari con il montaggio video vi metto tutti gli screen con le modifiche degli HP. Per quanto riguarda il mastino lavico, come per il golem, modificate i livelli 1, 2 e 3, mentre per i giganti, tenetevi pronti, livelli 5, 7 e 8 e il livello 8 lo faremo proprio in questo episodio. Che spettacolo proprio, cade a faggiuolo. Rimanendo sempre sulle truppe, una sola truppa viene depotenziata tra virgolette, ovvero i minatori. Prima richiedevano 5 spazi, dopo l'aggiornamento ne richiederanno 6. I minatori, ragazzi, offrono davvero tanto, sono fortissimi e questo nerf, secondo me, ci sta. Siamo arrivati alle strutture, ragazzuoli, tenetevi forte. Ovunque voi siate seduti, non lo so, sul bagno, su una sedia, tenetevi forte perché ci sono due nerf pazzeschi. Il primo un po' meno, il secondo clamoroso. Il primo riguarda gli archi X che vengono nerfati i livelli 2, 3 e 4 per quanto riguarda il danno. Il secondo, invece, riguarda la torre infernale che non annullerà più gli effetti della guarigione. Avete capito bene. È una cosa che ho sempre sognato perché quando la torre infernale targetta una truppa tu non la puoi curare. Ma dopo questo aggiornamento le archi e queen walk regneranno sovrane sugli attacchi da TH10. Pazzesco, veramente pazzesco. Però stavo pensando che le torre infernali multiple in guerra non serviranno via niente. Perché se tu attacchi con delle truppe belle cariche tipo valchiri e bocciatori eccetera, sì, te ne targetta 5 ma fa pochissimi danni. Ti basta una cura per rianimare tutto oppure un curatore che fulla tutti da dietro. A cosa servono? Per quelle singole invece non cambia niente perché basta che ti targettano il king e arigato. L'ultima parte ragazzuoli riguarda gli upgrade per il TH11. E qui c'è tipo una situazione di amore e odio. Per quale motivo? Perché aggiungono altri 25 pezzetti di mura da fare a livello 12. E io che ancora li devo iniziare... Non lo so. Sto seriamente pensando di quittare. Seconda cosa, reali di livello 50. Sì, saranno fantastici in war, devastanti in globale eccetera. Però ragazzuoli, io che li ho al 40, devo fare altri 18 livelli. Mi sento male. Ed infine, sempre qui nel TH11 si potranno migliorare tutti quanti gli accampamenti fino a livello 9. Però ragazzuoli, non viene specificato se aumenteranno i posti. Nel senso, in questo esatto momento il massimo è 240. Non so se portando tutti gli accampamenti a livello 9 si potrà arrivare a 260. Boh, oppure verranno ridistribuiti tutti i posti per i precedenti livelli, ma non credo. Probabilmente in futuro ci saranno 260 posti. Detto questo, questo è il bilanciamento che ci aspetta. Un qualcosa di incredibile, non vedo l'ora. Siamo pronti ragazzuoli, l'episodio di oggi è partito già alla grande, siamo qui per fare i giganti a livello 8, però devo farmare ancora un milioncino. Sono ad 8 milioni e mezzo, ci aspetta questo evento dall'alto verso il basso, sono esattamente a 7 progressi su 10. Dobbiamo farne 3 ma devo andare spedito velocissimo perché altrimenti, ragazzuoli, il video dura un'eternità. Il problema è che non posso partire perché devo spendere l'oro. Ne ho troppo, infatti lo investo subito su un cannoncino, 1 milione e 500 mila. Ora sì, possiamo andare, in realtà già sto schippando, dobbiamo trovare un bel 500 mila di Elisir. Solo applausi per questo 500 mila di Elisir. Con delle difese aeree scarsissime, completamente inattivo, con una marea di dombe, sembra una necropoli. Occhio perché non abbiamo la Queen, dobbiamo stare molto molto attenti. Direi di partire con le mongolfiere qua, partiamo subito con tantissime mongole e via dei mastini. 1 e 2, cercando di mettere dietro tantissimi sgherri che non sto posizionando, eh ci credo, sto selezionando i mastini, grazie al cavolo. Andiamo subito con altre mongolfiere, ci siamo, abbiamo una marea di pozioni della velocità che direi di utilizzare proprio ora per far fuori subito. Le difese aeree, un bel King centrale, non riesco a mettere niente stasera, è via di gran sorvegliante dietro. Ma quanto sono veloci le mongolfiere, un'altra bella pozione alla rapidità sotto, una qua centrale e via, un grandissimo sprint. Hanno messo il NOS per distruggere tutta quella inattività centrale. Attenzione perché abbiamo un sacco di sgherri da utilizzare, non sono rimaste troppissime mongolfiere, eh. Questa cosa la vorrei far notare, un'altra bella velocità lì. Distruggiamo subito la difesa aerea, ok una è andata giù. Con il King e il gran sorvegliante probabilmente puliamo tutto. Gli sgherri sono più, ragazzi, ma quanto sono forti gli sgherri. Li mettiamo pure qua sopra, benissimo. Rimane solo un po' critica la parte in basso, ma non dovrebbe essere un problema perché io vado ad attivare l'abilità del gran sorvegliante. Ho riparato tutti, ma ci sono ancora un cannone e una torre degli arcieri. Scudo attivato per 16 ore, dai che dobbiamo prendere quell'estrattore dell'isir, le trivelle, la miniera e ce ne andiamo contentissimi. Ti prego non sfondarmi il King, ancora tantissima vita. Non toccatelo please, deve rimanere così a piena vita. E no, mi stanno targhettando il gran sorvegliante, il grax sorvegliante, ma ci siamo. 100% incredibile per iniziare. Pensavo sinceramente di felare, ma è andata piuttosto bene. Bene così, distrutta. Ora la difesa era, non è vero, manca ancora qualche colpiceno. Distrutta, perfetto. Guardate che bottino ci portiamo a casa, ragazzoli. Incredibile! Che spettacolo. Bonus stella completato, però attenzione perché dobbiamo fare un altro attacco per arrivare a 9 milioni e mezzo precisi. Il King è tornato proprio ora. 8 su 10 progressi, via ragazzoli. Secondo attacco, siamo carichi. Dobbiamo trovare quindi un 450 mila easy peasy e ce la faremo. Amici miei, 567 mila però, occhio, perché questo villaggio non è assolutamente inattivo. Anzi, c'è questo pennuto qui che mette un sacco di paura. Però lo attacchiamo. Sono partito. Mettiamo un po' di pepe a questo video. Vediamo cosa riesce a creare il grax. Mettiamo tutte le mongolfiere velocissime e rapidissime. Direi di buttare il King, il gran sorvegliante e che spettacolo hanno aperto le mura. Questo non me l'aspettavo. Due traghetti, belli laterali. Una bella pozioncina a velocità. Sì, lì in basso a sinistra, a destra, scusate. E direi di piazzare anche un'altra più avanti. Ma perché ho messo la veleno? Cioè io sono convinto e sono andato a mettere la veleno. Ma cosa con Bini Crax? Gli sgherri dietro, dobbiamo razziare tutto. Devo andare giù il pennuto. Distruggete subito il pennuto. Il pennuto è scoppiato. Però ragazzuoli, siamo messi male. 25%. Siamo messi davvero molto molto male. Davvero molto molto male. Abilità subito ora. Del Grax sorvegliante che riesce a sfuggire al target dell'arco X. Io sto mettendo tutto ragazzuoli. Non so assolutamente cosa sta succedendo. Dai che va giù ora il municipio. Due stelle probabilmente fatte. Ma ci mancano 240.000 di Lysir da razziare. E ci butta anche una cura. Non mi importa. Sprego tutto. Abilità del King in basso. Vai traghetto. Fai la differenza. Dai che c'è la torre infernale singola. Che non dà assolutamente fastidio. Gli sgherri devono razziare tutte le pallozze di Lysir. È arrivato il momento di prenderci tutto l'Lysir. Yes. Che spettacolo. Pollicione lì in su. Faccina che sorride. Un altro attacco incredibile. Razziato tutto. E ci stanno pure guardando. Non mi bruciacchiate i draghi. Dai che ce la possiamo fare. Ok. È andato giù tutto. Però ragazzuoli. Adesso c'è un grandissimo problema. Non ho gli eroi per l'ultimo attacco. E l'ultimo attacco è quello con l'esercito più scarso di tutti. Buonissimo. Ottimo bottino. Ma sono un pollo. Non ho calcolato che tutto l'Elysir in eccesso l'ho sprecato. Mi sono esaltato per quasi un 700.000. Ma abbiamo buttato via tutto. Bravo Crax. Complimenti. Torniamo al villaggio. E mettiamo subito sotto i giganti. A livello 8. 9 milioni e mezzo. Un disastro di tempo per farmarli. Consumati in un solo click. 3, 2, 1. Ciao. Ne li ho messi sotto. Non ci credo. Sono a zero. Ragazzuoli. Questo è l'ultimo attacco. Mi accontento di questo. Che è relativamente scarso. Perché devo scappare tra pochissimo. Quindi lo facciamo al volo. Cerco di distruggerlo tutto. Ma non lo distruggerò mai. Perché non ho nessun reale. Vediamo cosa riesce a fare Crax. Subito i mastini. Vado con le mongolfiere. Abbiamo un sacco di pozioni della velocità. Che ho fatto offline. Ne ho messa subito una. Ne mettiamo subito un'altra. Così velocizziamo il tutto. Spacchiamo tutta quella parte. E ho i minatori per omaggiarli. Dato che verranno potenziati nel prossimo aggiornamento. E una marina di sgherretti. Che dovrebbero forfoli subito la principessa. La regina. No principessa. Altrimenti ragazzuoli. Staccare subito quella tesla. E quella difesa aerea. Siamo al 25%. Siamo messi. No male. Quello che viene dopo. Siamo messi malissimo. Per fortuna che con i goblin. Ci assicuriamo tutte queste risorse esterne. Ci sono ancora alcune mongolfiere. E un mastino in vita. Ce la possiamo fare. Il 100%. Scordatevelo. Perché non lo farò mai. Abbiamo fatto il 61%. Scudo attivato per 14 ore. Abbiamo ancora 6 goblinetti. Che possiamo magari mandare nella parte di destra. Però attenzione. Perché se metto una bella velocità qui. Vado a velocizzare il minatore. E gli sgherri. Di conseguenza. Quella parte dovrebbe essere fatta e conclusa. Con i goblin. Posso prendermi le due miniere in alto. Però devo stare molto molto attento. Perché c'è una torre dello stregone in agguato. Vado con i 6 goblin. Rapidissimi. Da prendere subito l'oro. No. Per un capello non ci credo. Non ci credo. Lasciamo 7000. Non ci posso credere. 90%. Non riusciamo a fare le due stelle. Invece sì. Le due stelle arrivano proprio ora. Peccato per quella torre dello stregone. E per quella difesa aerea. Altrimenti sarebbe stato addirittura un 100%. Che attacco pazzesco. Ce ne andiamo. Con un bel 372. 110.000 di bonus. E un 400.000 totale di riservo. Non male. Mi accontento. 9 milioni di oro. Che dobbiamo assolutamente utilizzare. Evento completato. Yes. Tutti i progressi fatti. Quindi siamo esattamente. A 13.976 gemme. Che spettacolo. Dobbiamo investire tutto l'oro. Abbiamo un solo costruttore. Direi di investirlo sulla torre dello stregone. Però prima. Spendiamoli tutti. Ovviamente. Mura. Subito. Un bel muretto qui. Mille. Sì mille. Sì mille. Ciao. Un milione. Magari mille. Sarebbe stato troppo facile. Un altro milioncino. Attenzione perché. La torre dello stregone costa 2 milioni e mezzo. E mi devo lasciare un po' di margine. Vediamo eh. Tac. Ne facciamo un altro. Ho perso il conto. Questa dovrebbe essere l'ultima. Perché siamo a 3 milioni. Yes. Questa è l'ultima purtroppo. Vado sulla torre dello stregone. E ragazzuoli. Abbiamo concluso. L'episodio di oggi. Incredibile. Spettacolo assoluto. Stiamo per completare tutte le mure a livello 9. Stiamo per livellare tutte quante le nuove difese. E ci stiamo portando avanti i giganti. A livello 8. Che torneranno sicuramente dopo l'aggiornamento. Addirittura potenzialmente. Che torneranno sicuramente dopo l'aggiornamento. Che torneranno sicuramente dopo l'aggiornamento.